Le nostre immagini sono impietose, raccontano lo stupore e lo sconcerto dei Tarantini che questa mattina in una radiosa ottobrata, tutto sole e temperatura gradevole, hanno visto offeso il mare più bello del mondo e un cielo limpido che raccoglieva le prime evoluzioni di gabbianelle e gabbiani reali, ma anche i cormorani che nidificano anche sotto la ringhiera della città vecchia. Poco dopo l'alba l'incendio di riflesso, guardando la nube da lontano, subito a pensare alle macro industrie del nostro territorio, un riflesso condizionato, poi procedendo la conferma, Exiba e Deni non c'entrano nulla. Abbiamo seguito il fumo e infine abbiamo raggiunto la fonte di tutto questo scempio che offende ancora una volta i nostri polmoni innanzitutto e poi i panorami di una città ancora una volta debole al cospetto di queste situazioni e mentre continuano le operazioni di messa in sicurezza della zona, con il grandissimo impegno dei vigili del fuoco che hanno fatto quello che potevano, al cospetto di fiamme inarrestabili e autoalimentatesi per la presenza di ingenti quantità di materiale plastico, cartone e legno, la riflessione sulla considerazione più evidente. Nella nostra città sono innumerevoli le aziende e le strutture potenzialmente pericolose dal punto di vista dell'inquinamento. Per queste motivazioni tutte le ipotesi di ridimensionamento del polo microinquinanti di Arpa Puglia sono da respingere al mittente. Il segretario della CGL d'Arcangelo ha recentemente denunciato il fatto che i fondi destinati al polo tarantino siano stati addirittura dimezzati. In pratica e in parole povere, il problema resta e va affrontato negli uffici amministrativi della regione Puglia affinché, come dimostrato da questo evento, il controllo di quanto accade a Taranto sia elevato anche in vista di quanto si sta evolvendo nel settore industriale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.